Paolo, ma l'editor è lo psicologo dello scrittore? Diciamo che l'editor dovrebbe essere casomai lo psicologo del testo, però lavorando sul testo, cioè su quello che lo scrittore ha scritto, tira fuori quasi sempre anche una parte oscura, misteriosa, che in fondo neanche chi scrive sa di avere e di aver messo sulla pagina. E perciò sì, in qualche modo si può anche dire che l'editor rischia di diventare lo psicologo dello scrittore, però ci sono anche tanti tipi diversi di editor, c'è l'editor della casa editrice che legge il libro una volta che è arrivato e che spesso è stato già deciso di pubblicare e quindi a quel punto si tratta soltanto di sistemarlo vedendo le parti deboli e migliorarlo per la pubblicazione. Poi ci sono gli editor che lavorano nelle agenzie letterarie o nelle scuole di scrittura, cioè sono quelli che hanno un rapporto con il testo mentre si sta formando addirittura certe volte. Ecco, quelli in effetti rischiano di diventare degli psicologi un po'. Ecco, l'importante è che non diventino degli psicologi autoritari, che non diventino dei divoratori di scrittori, perché anche quello è un rischio, quello che si senta la voglia di dominare e di plagiare anche un po', insomma di far sì che ogni romanzo pubblicato somigli più a chi lo pubblica che a chi lo scrive. Radio Genius